Buongiorno, sono Sorresini Simone, volevo ringraziare San Vensan TV per questa ripresa e volevo solo ringraziare tutta l'organizzazione per quanto riguarda questa bella manifestazione come è stata improntata in un modo elegante e scorrevole. Per quanto riguarda le mie prestazioni, devo anche ringraziare la mia buona volontà che piano piano, comunque la mia determinazione mi ha fatto arrivare a dei buoni risultati consolidando quello che è il mio aspetto del bigliardo come lo vedo io e spero di esprimerlo anche in futuro. Adesso questa manifestazione qui oggi la inizierò col campionato a squadra e poi proseguirò col doppio e infine negli otto spero di fare una buona figura. Vediamo, insomma, di gente brava ce n'è tanta, spero di poter dimostrare qualcosa in più, sempre rispettando gli avversari perché sono forti e c'è sempre da imparare e da rispettare. Per quanto riguarda invece il doppio, ho un compagno forte, ha appena vinto un campionato italiano e il campionato a squadre rappresento la squadra del palabiliardo di Rò. Siamo primi in classifica, vediamo un po' cosa può succedere. Siamo su tre fronti, vediamo se riesco a portare a casa qualcosa. Già tre campionati a squadra le ho vinti, campionato italiano, vediamo cosa succede. Apro tutti gli orizzonti, vediamo, con umiltà, tranquillità, vediamo, vediamo.